adesso siamo rimasti in pochi se vuoi dire e poi vinci a tutte le elezioni poi vinci a tutti i referendum poi vinci a 850 bisabia 360 dei magistri ma qua non è che cambia tanto qua se non ricomincia quell'autunno che sta per arrivare a Canaccio insomma quello della morte, quello delle lotte se non ci pensiamo noi da qua sto casino non ci dirà proprio bravo anzi ma qua dai tanto siamo amici se vuoi dire non vi offendete ormai qua, abbiamo capito stiamo attorno al fuoco se vuoi fare le confidenze e poi dite voi quello che vi fare domani però quando noi ce ne andiamo per l'usconi chi te lo fa qua? no perché tutti sti sordi che c'hai come se dici anche tra di noi, tutti sti sordi che cazzo ti fai? ma perché tutti sti sordi ce l'hai con un manto con gli avvocati, con i giudici, te chiamano te qua, te gli scappa qui a Bruxelles, ma ma vendete tutto vendete tutto, comprate su un bastimento, non una vacca un bastimento che ci fa in vita pure a D'Alema che lui con la varchetta sua lì doveva e allora pigli e poi per l'usconi, faccia sto favore una volta per tutte togliete dai coglioni la corte dei pirati